Anche Caltanissetta, come il resto delle città siciliane, si avvia al coordinamento per l'accoglienza. Si stanno definendo le prime azioni per gestire i profughi in arrivo, a partire dallo screening alla profilassi dei vaccini, alla mappatura delle strutture gestite dagli enti pubblici, alle IPAB, per costruire una vera e propria rete di disponibilità e dare sostegno e supporto a chi arriverà dall'Ucraina. Così il governatore della Sicilia, Musumeci, visto il ruolo di commissario delegato dello Stato per l'emergenza ucraina, ieri ha effettuato un'importante riunione alla quale hanno partecipato i nove prefetti dell'isola presedute dallo stesso presidente e hanno preso parte all'incontro anche il capo della protezione civile regionale Cocina, ma anche gli assessori regionali alla famiglia della salute, ovvero Scavone e Raza, mentre si sta definendo questa grande rete di accoglienza per prevenire ed organizzare le esigenze come da ordinanza ministeriale. Così la regione prenderà in carico i profughi e anche Caltanissetta farà la sua parte, prevista per domani una videoconferenza tra Sua Eccellenza e il prefetto Chiara Armenia, con i rappresentanti dei comuni della provincia, i rappresentanti della chiesa, per fare il punto sulla situazione.